Da ingresso il Presidente della Repubblica. Grazie. Cercherò di dire quello che serve. Il Presidente della Repubblica è molto testimoniale dall'imponente produzione artistica e scientifica di questi due illustri protagonisti della scena culturale europea. Il Presidente della Repubblica è arrivato via a ship to the Albanian port of Schengen. Il ship carried 16 men who were rescued at sea after departing from Libya. The men will undergo health screening and identification procedures and will then be transferred to a Campinjadur a few kilometers away from the port. Italian Prime Minister Giorgia Meloni formally opened the two centers on Friday, where Italy plans to process thousands of asylum seekers. Although the center in Jadur has the capacity for 3000 migrants, it will start with 400 and increase to 880 in a few weeks. The centers will only house adult men, families will not be separated, and women, children and vulnerable people will be accommodated in Italy. Caltagirone, laser a femtosecondi e sistema di microscopia tridimensionale sono gli ultimi innovativi sistemi introdotti presso l'Uoci di oculistica dell'ospedale Gravina, diretta da Salvatore Silei. Con i due sistemi introdotti l'Oculistica di Caltagirone si propone fra i centri di riferimento regionali all'avanguardia per il trattamento delle lesioni oculari, spiega il direttore generale dell'ASP di Catania, Giuseppe Lagangasenzio. È un risultato che supporta in modo decisivo la crescita professionale dell'equipe e che garantisce maggiori e migliori opportunità di cura per un vasto bacino d'utenza. Il laser a femtosecondi è il primo ad essere attivato in Sicilia orientale. C'è una costante tensione allo sviluppo delle performance, alla qualità e alla sicurezza dei servizi e alla crescita delle competenze professionali che questa direzione intende incentivare e sostenere, afferma il direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina. I militari del nucleo operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 27enne pregiudicato catanese per i reati di «porto e detenzione di arma da fuoco clandestina, ricettazione, ed evasione». Nel corso di un servizio di controllo del territorio nell'arco della mattinata, percorrendo le vie limitrofe al castello. Ursino, i carabinieri hanno notato un ragazzo con zaino in spalla, riconoscendolo per il 27enne già sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione del quartiere, Pigno. Dopo alcuni preliminari accertamenti per quel giorno e per quell'ora l'arrestato domiciliare non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi da casa. La pattuglia ha inteso non perderlo d'occhio e ha iniziato a seguirlo a distanza, fino a quando il giovane è entrato in un B e B della zona. A quel punto i carabinieri sono intervenuti bloccandolo e mettendolo in sicurezza, sorpreso dall'irruzione il giovane ha lasciato cadere per terra lo zaino che aveva con sé, particolare che ha insospettito ancora di più i militari dell'arma, i quali hanno perquisito la camera, partendo proprio dallo zainetto, al cui interno hanno recuperato una pistola calibro 38 corto con matricola brasa, caricatore con 10 colpi inserito e con colpo in canna, dunque pronta a fare fuoco. Assieme all'arma clandestina i carabinieri hanno rinvenuto anche un paio di guanti, un passamontagna nero e un kit per la pulizia della pistola, oltre a due sim card per cellulare. Il giovane è stato arrestato e disposta alla misura della custodia cautelare presso il carcere di Catania, Piazza Lanza. Al via da oggi la collaborazione istituzionale tra la Questura di Catania, il Comune di Catania, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e il concessionario del Terminal Crociere, Catania Cruise Port, per assicurare un'accoglienza in sicurezza dei tanti turisti che arrivano con le navi da crociera per visitare la città. L'iniziativa è stata presentata questa mattina al porto e si pone l'obiettivo di incrementare i controlli nel centro storico cittadino e nella zona del porto in concomitanza con l'arrivo dei croceristi. In particolare, allo sbarco dei turisti, i volontari della consulta giovanile del Comune forniranno loro informazioni e indicazioni sui siti di maggiore interesse storico e culturale. La sicurezza dei turisti è garantita, all'interno del porto, dalla polizia di frontiera e dalle guardie particolari giurate dell'autorità portuale. All'esterno, gli agenti della squadra volanti della Questura, con equipaggi automontati e motomontati, unitamente alla polizia locale, intensificheranno le attività di controllo e pattugliamento, per prevenire ogni forma di reato in danno dei turisti. Anche le guide turistiche collaboreranno con la Polizia di Stato mediante contatti diretti per segnalare eventuali persone moleste o malintenzionati. Ci troviamo qui a Librino, nella parte, a distanza della Chiesa della Resurrezione del Signore. Sono qui con l'assessore Alessandro Vorto. Grazie, grazie anche a Sua Eccellenza, a Padre Duilio, ma soprattutto anche alla Fondazione Mauri e la Morgagni, che abbiamo potuto organizzare questo evento per stare vicino alla gente, perché il lavoro di una buona amministrazione, come ci insegna il nostro buon sindaco Enrico Trantino, è quello di iniziare dal basso, di iniziare il rapporto con i bambini, che sono poi i veri portatori, non solo di idee, ma anche di cultura, di educazione. Allora, attraverso questo percorso stiamo cercando, attraverso, come dire, anche il rapporto diretto con i quartieri, con i ragazzi e quindi anche allo stesso tempo con i genitori dei ragazzi nei vari quartieri, di attivare un percorso che, come dire, si venga più vicini. Allora, io comincerei subito con la Presidente della Croce Rossa, che è la dottoressa Catalanteri. Sì, è stata veramente una bella iniziativa, abbiamo aderito chiaramente con grande piacere, ci troviamo veramente in un quartiere dove è anche bello essere in termini di socializzazione e di educazione alla solidarietà, che poi nel nostro emblema è quello che maggiormente teniamo a sensibilizzare. Ovviamente la nostra struttura ambulatoriale serve, insieme alle altre associazioni, a fare una buona rete per fare anche una buona prevenzione. Quindi veramente anche grazie a tutti quelli che hanno favorito questa iniziativa. Sì, lavoriamo. Intanto il progetto Antonio Mauri nasce, viene avviato da Rotary Club Catania, ma la cosa importante è che questa iniziativa va avanti da tempo, grazie al lavoro di squadra, grazie alla collaborazione di altri enti e istituzioni, a partire dall'assessorato alla protezione civile, dall'amministrazione comunale di Catania, la Croce Rossa italiana che è con un supporto straordinario sia di mezzi come questo ambulatorio mobile, sia di medici, la Lilti, qui rappresentata per la loro assoluta disponibilità di presenza attiva e di continuità anche nei giorni successivi, perché gli utenti che oggi non riusciremo ad accogliere o a visitare, o che si presenteranno magari in orari o giornate successive, saranno comunque visitate grazie ai medici volontari della Lilti. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 17 ottobre di Globus Television. Giovedì alta pressione che resiste. Giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 29 gradi lungo le coste, valori notturni in contenuto aumento. 20 di Scirocco, mari, martirreno quasi calmo, marionio da mosso a poco mosso, stretto di Sicilia da poco mosso a mosso.